Don Giovanni, come stai o non vedi? Eh, ora vado con coppia e vado a bere. Il marito è il mio figlio, che ha fatto una brutta notte. Ora si è addormuta un po'. Quanto mi dispiace, è tanto un buono giorno. Mmm, tutta la famiglia. Sei notte figlia, sei femmina e due mascoli. Tutto veramente la perla delle figlie, grossa e piccerita. Quella che non potete riuscire a voi è Pasqualino. Perché, perché, che fa Pasqualino? Ma ti non puoi ascoltare. Quando ha cominciato a cagliare non ha fornisci più. Ma tu hai sempre un'ora per andare a cattare caramello, cioccolatino e pasticciotto. E quando non c'è il padre, vado a noi. E chi parla? Ho figlio vostro, sei in Uriavela in carne e ossa. Figlio mio è in Uriavela? Figlio mio è in Uriavela in carne e ossa. Ne erano giù, ha parlato voi. Chi è la Nusantarilla? A me Nusantarilla proprio no, eh. C'è vero che Nusantarilla? Eh, è stato zitto. Penso a che l'altro di lui c'era la figlia tua. Perché? Che tienne lì c'era la figlia mia. Ah, ma avessi venire a chi si tu e a chi sono qui. Perché? Che si tu, che si. Come si non si sapesse. Se hai di rispettare a Nusantarilla e non ti cercare soddisfazione era la parola che hai detto. No, bravo. Come si non si sapesse. Che volete ricciare? Che volete ricciare? Che volete ricciare? Che volete ricciare? Eh. Eh, si ti ho a dire che si è arrivata una vita, perciò è meglio che a Nusantarilla. Ah, tu hai parlato, hai capito che hai parlato? Eh, 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 voi non hai d'allucco. Avete capito che non hai d'allucco? Ma non hai d'allucco? Ma non hai d'allucco? Ma non hai d'allucco? Ma non hai d'allucco? Ehi, chi vuoi dire? Eh, perciò ho fannito, ho fannito l'estate così. Io fannisco per rispetto a Don Umbetto. Bravo, dai. Oh, rispetto, parlo pure rispetto. Se io ho Donis, non facesse tanta ghiaccia. A me ghiaccia? Eh, mamma mia. Ma non mi scordi caro a Nusantarilla e sta malata, adesso faccio il strascino per tutta la vita. Ma lei, papè, ma glia per lei, ah, ma glia per lei. Eh, voi ha fannito, ah no. Ti non li ti appicciacà, appicciacate, ma sì, tu sì. È più zittà che questo, non erano giù, ah. Ah, voi avete arreputato, non vi? Avete fatto affacciare tutto qua, non hai fatto affacciare. Perché non tenono che fà? Invece sono tricare il corno a loro, sono tricare il corno a loro. E chi parla di corno a te? Eh, Maurizio, non ha t'avuto la parola di corno a te. Eh, 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 eh. Se ne ha busso che hai per rispetto a Don Umbetto, non posso parlare. Ma non vorresti così, eh? Non vorresti. Oh, oh, paucolone, tu non fai niente, capito che non fai niente? Io non fai niente, non ti va, via, sentite. Eh, sto stendendo, sto stendendo. E non ha luccato. Non ha luccato, facci stare bussato a Don Umbetto. Ma chi sta luccando? I giorni che fai tu sì. Eh, bravo. Non fai niente, non fai niente. Ah, così, io, io. Tu non la dici? Oh, giuà, oh, giuà, facci te la stasita. Hai da stasita tutti e due, hai da stasita. Affanitela, ma che maniera, ecco io. Ah, sia per me, per rispettare Don Umbetto mi sto che fai. Ah, hai pure, per rispettare Don Umbetto mi sto fai. Ah, bravo, facciate pure. Anzi, se volete, va bene, abbracciatevi e basatevi. Sì, abbracciatevi proprio a esse. Troppo onore potete ricevere di abbracciare e basatevi a me. Ah, sì, parla per Don Umbetto. Ah, giuà, parla di voi. Ah, sì, che so, però, giuà, che so. Ti sace una cosa tu, che non tenete rispetto per nessuno. E basta, ma, fornitelo. Avete capito che l'hai da fornire? Mamma, mi sto a fare un bombadromico. Ah, un bombadromico. Il è stato uno che mi ha fatto un ubrnacchio. Con itsensi as 무대, Affinizzata che sia una cosa orientata. Ho, devi guardare l'armancio seno minuto. E ci bathare, l'armancio del là laggiare. Minuto bif 카 방o che sungile questo lettere vorzè. So, se ne fa schon una mening roubare infinita rispettura da cercare. Grazie.